Luc Oriente, ovvero una delle poche opere di fantascienza del fumetto Franco Beck. Carissimi appassionati di fumetti, ben ritrovati, siamo allora a fare questo esame di questa collana, di Luc Oriente. È la prima serie, finalmente, che vi porto della collana avventura uscita con la gazzetta, che tratta alcune tra le più famose serie del fumetto franco-belga, dove c'è soprattutto avventura di vario tipo, che sia dal più poliziesco, dal più mistico bar spionistico della guerra, il più famoso Black and Mortimer, eccetera. Qui invece siamo all'applicazione dell'avventura di stampo fantascientifico. Ed è un po' il motivo anche per cui l'ho messo come prima lettura, cioè come quella di tutte le serie di cui mi aspettavo un po' meno. Perché? Perché effettivamente, andandola anche a sfogliare, subito mi appariva che questi disegni un po' datati, ovviamente questa è un'opera un po' figlia del suo tempo, parliamo degli anni 60, e la fantascienza applicata a certi anni mi dava come la sensazione che potesse effettivamente aver fatto un po' il suo tempo, cioè essere un po' passata rispetto ai tanti generi che magari ancora possono reggere bene se interpretati oggi. Oggi effettivamente con i mezzi che si hanno, qui non siamo ovviamente in un film, siamo in un fumetto, però comunque grazie alla possibilità, date anche dal digitale, dalle rappresentazioni delle tavole, da un disegno molto più evoluto, anche a livello grafico, possono rendere certi aspetti della fantascienza molto più spettacolari, ecco in questo senso. Ebbene, da questo punto di vista qui, devo dire che Luca Oriente ha saputo stupirmi. Forse sarà il suo modo di appunto mischiare fantascienza e avventura, quindi non è mai una fantascienza troppo sperticata, che può essere ad esempio come quella di Nathan Never, quando è proprio fantascienza pura. E qui proprio diventa avventura, perché si parla di potenziali invasioni di alieni, piuttosto che di viaggi verso altri pianeti di alieni, piuttosto che diverse avventure sulla Terra, a stampo fantascientifico o a volte anche con qualche sfumatura, non dico mistica, ma paranormale, ecco vagamente che può accennare a questo aspetto qui. Potrebbe dare l'idea quindi quasi di una sorta di X-Files dei tempi sotto certi aspetti. In realtà si parla di un'ispirazione molto diretta a Flash Gordon, perché riprende un po' anche per le tempistiche, il fascino un po' di quella tipologia di fantascienza di quel tempo, ma anche perché il suo, diciamo uno dei suoi protagonisti, il suo look orient principale, è sempre appunto un bellone aitante, quindi avventuroso, ma sia intelligente sia appunto anche prestante, e quindi un po' c'è questa forte attinenza che chiunque affronta il look orient, magari conosce anche Flash Gordon, sente un po' rimbalzare. In fondo il look orient c'è un po' questa, c'è un po' questa suggestione anche del cinema di fantascienza americano, diciamo del periodo 40-60, quel cinema appunto che approcciava, permettiva di fantasticare anche molto con la fantascienza, perché bastava veramente qualche accenno di effetto speciale e sembrava subito portarti in dei mondi affascinati. Oggi la fantascienza deve fare veramente salti carpiati mortali, per stupire forse, per così tenerti così stupito come poteva essere a quei tempi. Ma parlando un po' di chi è luco oriente, appunto che vi hanno detto, questo scienziato però molto atletico, che fa da assistente a invece Hugo Cala, che è un po' invece lo scienziato, un filo un po' più attempato, sui 50 tipo, ma che è più saggio, è il suo mentore sostanzialmente, quindi è poi lui quello che ha le vere idee, lo vero studio della scienza per capire cosa succede, gli episodi, le cose più strampalate. Luca Oriente diventa quasi un po' il braccio, quindi il braccio esecutore, è quello che viene mandato spesso da Hugo Cala a esplorare, a salvare, a fare le cose insomma in questo senso. Ultima tra queste è Lora, che è un personaggio femminile ovviamente innamorata di Luca Oriente, ma non c'è nulla di ufficiale esplicito tra i due, rimane sempre una cosa molto lei desidererebbe tanto, ma rimane molto un po' dietro le file, forse c'è ancora un concetto in questo senso rispetto ad oggi più datato di un personaggio femminile che rimane un po' più sullo sfondo, anche se ogni tanto prende l'iniziativa anche lei ed ha detto a Magnoni e a Luca Oriente in certe occasioni. E ovviamente non poteva mancare anche Julius Argos, ovvero lo scienziato un po' pazzo, il cattivone, un po' la nemesi di Hugo Cala della serie che al contrario ovviamente vorrebbe sfruttare scoperte scientifiche non per, diciamo, il progresso dell'umanità eccetera, ma per i propri scopi e interessi. Ma ciò che più mi ha affascinato forse di Luca Oriente è il fatto che in ogni storia il protagonista sia sempre e comunque alla ricerca di una spiegazione razionale ai fenomeni strani, paranormali a cui assiste. Quei fenomeni appunto che invece la narrazione fa credere al lettore stesso che si tratti qualcosa di paranormale, un po' come al protagonista, e invece verrà sempre a galla la verità, appunto in quest'opera diciamo che il soprannaturale è sempre negato dalla scienza. Poi in realtà le situazioni fantascientifiche che si vengono a trovare non sono sempre così del tutto accettabili, del tutto credibili fino in fondo. È una fantascienza insomma che ci pone dei paletti entro certi termini per essere in maniera credibile e sicuramente come dicevamo però compensa con il senso di avventura, di mistero e di scoperta. Le storie comunque risultano intense, recitate comunque intensamente dai protagonisti e con personaggi appunto forti e spesso anche strani. Vi voglio fare come mio solito diciamo la top 3 di queste storie qui tra quelle che sono alla fine dei conti 18 albi raccolti qui all'interno di questi volumi per identificare le storie più intriganti. In terza posizione metto il cosiddetto ciclo di Terango, forse il ciclo più famoso dell'intera opera che è quello iniziale e che appunto struttura quello che è un po' l'articolazione, solo che qui appunto invece di farvi un singolo album, un singolo volume, lo fa in ben cinque diversi. Infatti si partirà con un mistero attraverso i draghi di fuoco con questo mistero all'interno di questa foresta che per andare appunto a svelare andranno a esplorare e da lì scopriranno che all'interno della foresta in realtà sono atterrati, questo è il secondo volume, degli alieni che hanno anche loro i loro problemi, da qui scatterà un po' anche la parte più fantascientifica, quindi il aiutare questi extraterrestri con proprio una sorta di storia che si sposterà poi all'inizio dalla terra fino a una delle famose avventure nello spazio, nel pianeta di questi alieni e lì aiutare anche o dopo averle raggiunto a casa anche lì perché sul pianeta degli alieni c'è un altro tipo di minaccia. Vengono introdotti tutti i personaggi, tutte le possibili situazioni più tipiche in cui Luco Oriente si potrà trovare ad interagire. A pari merito con questa in realtà quindi mettiamo un quarto posizioni, metto anche il segreto delle sette luci dove presso appunto il famoso mega laboratorio di Kugokala praticamente fa questa scoperta che se si viene esposti a queste luci appunto poi Luco Oriente e l'ora che saranno investiti praticamente diventeranno impalpabili, potranno chi l'uno chi l'altro, seconda, passare attraverso le pareti oppure non avere alcuna possibilità di essere toccati dagli oggetti, quindi difficoltà da qui molto intrigante di capire come fare a quel punto a sfamarsi, però al contempo ad esempio potranno essere invulnerabili ai proiettili, però è una situazione che ovviamente non può durare e dovrà cercare di capire come tornare alla normalità. In mezzo ci sarà anche il trovarsi all'interno di situazione di un rapimento, quindi sfruttare in un modo o in un altro queste situazioni qui, quindi appunto questo mix tra fantascienza, comunque qui si svolge tutto sulla terra ovviamente, e diciamo piccolo thrilling locale. Vi ricordo comunque che tutte le prime dieci storie le ho anche recensite appunto singolarmente, cioè dieci, i primi dieci volumi che poi in realtà appunto essendo il ciclo ad esempio di Terango 5 storie a 6, insomma sono 4-5 video quindi che trovate qui sul canale se volete diciamo esplorare alcune singole storie che ho recensito singolarmente. Aggiungo qui seconda posizione, anzi ecco volevo far rivedere nel frattempo anche questo, che è una storia a 24 ore per il pianeta Terra, dove la storia in sé non mi ha esaltato, però si evidenzia come i disegni di Eddie Papp, per quanto vedete datati sotto certi aspetti, eccetera, però a livello di effetti speciali, questo è un raggio disintegratore, proprio rende, dismolecolava insomma certi oggetti, vedete che effetti che diciamo all'epoca veramente strabilianti come tipologia di effetti speciali. Qui lo vedete cosa succederà invece al stato della libertà. Però dicevo invece seconda storia è quello del cosiddetto il sesto continente. Mi piaciuta molto in questa storia l'ambientazione, siamo nelle Alpi svizzere dove ci sono queste persone che scompaiono tra cui appunto uno scienziato, un amico di Hugo Kala, vanno ad investigare ed ovviamente anche loro finiranno poi con il disperdersi, Hugo Kala si perderà e sarà Luc Orient con l'ora che cercheranno di raggiungere. E là, al di sotto appunto della coltre di neve, al di sotto di un certo mondo, scopriranno un altro mondo con una situazione molto particolare, in cui la fantascienza, ok, regge fino a quel tanto, ma è comunque molto affascinante, sia appunto lo scenario, sia appunto quello che riusciranno a scoprire. Ma la storia che mi è piaciuta di più è sicuramente il cratere dei sortilegi. E poi da come mi sono confrontato e ho letto anche in giro, è effettivamente la storia ritenuta più riuscita in generale. Ve la riepilogo qui un attimo. Laura e Luke si recano in uno sperduto villaggio di montagna a indagare su di un meteorite che ha portato con sé un mistero inquietante. I gas verdi che emanano dal cratere, infatti, oltre ad essere velenosi, sembrano nascondere un pericolo inafferrabile, dal momento che qualcuno, senza essere mai visto, comincia ad aggredire e uccidere diversi abitanti del villaggio. La convinzione che con il meteorite siano giunti sulla terra dei mostri invisibili si fa lentamente strada nelle mente dei nostri eroi. E qui diciamo che è molto affascinante l'ambientazione perché sono in queste zone delle Alpi che presto verranno isolate e quindi non sono in pieno, diciamo, centro di una grande città dove possono intervenire tutti, eccetera, 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 ma è un mistero che si dovrà svelare lentamente. Nel frattempo però ci sono queste morti che incombono, il pericolo appunto di questi gas che poi se va a piovere poi contaminerà anche l'acqua e contaminerà anche il latte delle mucche perché se queste mangio, insomma, davvero una situazione che diventa presto tesa con qualcuno che appunto sembra essere in giro e uccide diversi personaggi. Quindi di nuovo un mix tra questo fantascienza e thrilling investigativo che secondo me rende sicuramente il cratere dei sortilegi la storia più riuscita di Luca Oriente. Nell'ultima fase di queste avventure ci sarà poi anche un ritorno a una sorta di ciclo di Terango parte seconda con un'altra tipologia di Odissea ancora rivolta un po' più sullo spazio rispetto alla Terra, forse però non così coerente l'uscita come il primo. Diciamo che gli ultime storie, secondo me, Luca Oriente dopo queste sulla Terra va un po' calando. E se come vediamo la fortuna sicuramente di queste storie è appunto il fatto di supplire alla semplicità in qualche modo di questa fantascienza con delle sceneggiature appunto più avventurose e misteriose, di certo c'è anche che ci sono la scoperta anche di molte razze aliene che non sono sempre dei banali e semplici invasori, gli alieni invasori, ma sono al contrario delle creature appunto che hanno i loro interessi, i loro sentimenti e quindi vengono in un qualche modo umanizzati e gli danno sicuramente un maggiore spessore anche appunto a livello di storia, di spazio alieni, in fantascienza di quel tipo diciamo. Per quanto riguarda i disegni, Papp è sicuramente un disegnatore da tratto potentemente evocativo, brillante e spesso a volte anche barocco, ricchissimo di dettagli e magnifico come abbiamo visto anche prima nella resa degli effetti speciali per quel tipo di disegno, per quel tipo dell'epoca. Speccato forse per quest'ultima avventura che è veramente una pulizia di disegni, essendo un po' anche postita negli anni 90, quindi veramente uno spettro di tempo più diverso in cui c'era già uno stile più avanzato di certa linea pulita francese che anche appunto avendo questo scenario della seconda guerra mondiale sia stato sfruttato per una storia più debole, più claudicante anche dal punto di vista della credibilità. Greg, invece, come scrittore, sì, come ho detto, ha delle buone potenzialità. In generale, Luca Oriente non è visto come un'opera imprescindibile della bande sinée, appunto è una fantascienza un po' popolare, se vogliamo chiamarla in un certo termine, abbastanza avventurosa, comunque con alcuni sicuramente difetti, però è considerato che nella fantascienza della francese, soprattutto quella più storica, quella più del periodo d'oro, diciamo così, del fumetto europeo, non c'erano dei gran altri esponenti e quindi in questo settore è comunque rimane abbastanza di riferimento. Se volete provare qualcosa che comunque ha un fashion un po' vintage, ma sa comunque affascinare per le storie che propone, per il suo fatto di essere avventuroso e comunque trascinante in qualche avventura, potete dargli un'occhiata. Chiaro che credo che questa della colonna avventura della Gazzetta sia una delle poche facilmente rintracciabili edizioni in Italia. Nel caso, comunque, diciamo che è un'opera che secondo me vale come un 7, però ecco la consiglio con le dovute premesse in questo senso. Mi ha saputo stupire perché non credevo comunque riuscisse anche oggi ad essere appagante, nonostante il genere, che può risentire, come abbiamo detto, dell'effetto temporale, però comunque mi ha fatto quindi piacere poterlo scoprire. Detto questo, anche per questo escursus è tutto. Iscrivetevi se volete vedere le prossime ovviamente avventure di questa collana, di tutte le altre collane alla francese che verranno portate qui sul canale. Per tutto il resto ci si vede al prossimo video. Ciao da Viper! Iscrivetevi al canale!